Aumento dei prezzi a causa della guerra in Ucraina e ora siccità ed emergenza idrica hanno messo in ginocchio il comparto agricolo anche in Abruzzo. Rispetto a un anno fa l'energia elettrica è aumentata del 500% e con cimi a base di azoto del 140%. In queste condizioni i conti non tornano anche con eventuali aumenti del prodotto finale. E' una sorta di tempesta perfetta questa che stiamo vivendo, oltre al caro delle materie prime, ai rincari dei costi dei carburanti in particolare, ma di tutte le materie prime legate non solo alla guerra ma alla crisi energetica in generale, abbiamo un calo di produzione e abbiamo una siccità che sta incalzando e facendo rischiare l'intero comparto agricolo. Anche quelle produzioni che siano ad oggi, insomma, in qualche modo erano state salvaguardate, tra virgolette, con le irrigazioni di soccorso. I cambiamenti climatici hanno una grande responsabilità, ma per il direttore della CIA di Teramo Donato Di Marco manca l'utilizzo razionale delle acque ed interventi mirati per la raccolta. Dobbiamo investire in particolare sul risparmio da una parte della risorsa idrica e sull'accumulo dall'altra. Io credo che questo è un settore da attenzionare, i fondi del PNRR ci sono, il problema è che sono stati mal utilizzati e ci deve essere un'inversione di tendenza, ci deve essere una progettualità adeguata su questo tema, assolutamente. Chiedete anche degli interventi da parte del Governo, visto che, come diceva lei, state vivendo la tempesta perfetta? Io credo di sì, ma anche da parte della Regione abbiamo sollecitato tutte le istituzioni ad intervenire non solo sui rincari delle materie prime e sui carburanti in particolare, ma anche intervenire su dei settori del comparto, in particolare il settore zootecnico che sta vivendo da troppi mesi un problema che è più grande di quello che normalmente un'azienda può risolvere.